Buongiorno, oggi ti presento un portale web sulla categoria del noleggio con conducente a Roma. Ti faccio vedere alcuni esempi. Il sito è posizionato nella prima pagina di Google con migliaia di parole chiavi e anche con noleggio con conducente Roma. Scrivendo un noleggio con conducente Roma usciamo in quarta posizione sulla prima pagina di Google. Facciamo un altro esempio. Scrivendo un noleggio autoconotista Roma, il sito è posizionato nella prima pagina di Google nella settima posizione. Alcuni altri esempi. Sul sito ci sono anche tutte le tratte dall'aeroporto di Fiumicino in qualsiasi zona di Roma o paese di Roma e viceversa, dalla zona di Roma a Fiumicino Aeroporto o Ciampino Aeroporto. Un esempio che ti faccio vedere è NCC Aeroporto Fiumicino-Roma Andiamo a vedere dove è posizionato il sito. È posizionato qui in quinta posizione. Altri esempi. NCC Aeroporto Ciampino-Cassia Il sito è posizionato in quinta posizione. Qualc'altro esempio. Mi dimenticavo che il sito ha anche i tour. Ad esempio il tour di Pompei con noleggio conducente è posizionato qui in prima pagina di Google. Altri esempi. Anche il tour della costiera Amalfitara Eccolo qua in quarta posizione. Alcuni altri esempi. Noleggio Aeroporto Ciampino-Monteverde Il sito è posizionato qui e viceversa da Monteverde a Ciampino per farvi vedere proprio che la tratta sia da, per ed eccolo qua. L'ultimo esempio che vi faccio vedere è NCC Aeroporto Fiumicino-Frascati Il sito, eccolo qua, è posizionato qui. Penso che è un sito che possa crearti un interesse nel tuo settore. Io questo video lo mando a 20 aziende del tuo settore. Mi auguro che ti possa interessare e mi contatti per ulteriore informazione e per avere anche un'idea sui prezzi. Nel frattempo ti saluto, ti mando un saluto cordiale e ti auguro una buona giornata. Grazie a tutti.